Sono Paolo Gaboli, responsabile marketing operativo di Biticino, lavoro in azienda per tantissimi anni, sono 24 anni che collaboro con Biticino. Biticino è un'azienda nata nei primi anni 50 e ha visto il suo sviluppo nell'ambito del materiale elettrico, soprattutto in ambito residenziale nei primi anni, poi man mano ha visto arricchire la propria offerta anche di un'offerta in ambito industriale e nell'ambito videociclofondo. Alla fine degli anni 80, intorno ai primi anni 90, è entrato a far parte del gruppo Le Grande, gruppo di dimensioni internazionali e vivere nel mondo del materiale elettrico. Questo ha fatto sì che si siano affiati maggiormente nei fronti dell'azienda. Negli anni 90 ha visto un grosso sviluppo per quanto riguarda l'offerta relativa ai prodotti industriali, negli ultimi anni 90 invece c'è stata l'integrazione per quanto riguarda la videocitofonia con il marchio elettiterraneo che poi è entrato a far parte da pieno dell'offerta BTC, quindi nel catalogo BTC, fino ad arrivare al 2007, quando c'è stata la grossa integrazione delle due filiali presenti in Italia di Le Grande. Infatti BTC ha diffuso Le Grande al proprio interno e ha arricchito la propria offerta dei maschi Gamma P e Le Grande. L'evoluzione è continuata con le ulteriori acquisizioni, infatti dopo pochi anni abbiamo acquisito il marco Cablofin e infine recentemente, tre anni fa, abbiamo integrato la nostra offerta attraverso un'acquisizione, un lato metacistico. È una storia di completa evoluzione, è una storia di crescita, è una vera testimonianza dell'esperienza italiana di un'azienda che è cresciuta negli anni e rappresenta ancora oggi un elemento di eccellenza e di leadership nel mercato del mercato.